Salve a tutti! Allora ragazzacci, novità su Starbound! Allora, siamo, cioè siamo, sono, mi son fatto, allora, prima avevo la Scout, Helm, Chessguard e Pants Adesso ho tutto in oro, Gold, Gold Helmet, Gold Chesspiece, Gold Dreams Quindi molto, io, io, Gold, non ho neanche una tech perché ancora non ho trovato una mazza Comunque sia, sono stato giù nelle profondità e ho fatto un bordello di Titanium E con rispettive, dove stanno? Bar, quindi avevo il doppio di 96 più 100, insomma un casino 300 e passa Tutto per fare, anzitutto mi son fatto questa Vibroax, Vibro, Vibroax Che è una ascia vibrante che potete trovare nei migliori sexy shop Ed è 66.125.53 ma al momento sto usando questo, che è 46.204.22 Leggermente, no, abbastanza, moltissimo, più, cioè meno potente Ma con l'effetto del fuoco Quindi quando voi colpirete, intanto mi metto un attimo a dormire Quando voi colpirete, riuscirete, dove cazzo non la sta? Riuscirete ad avere due effetti Il primo è che il mostro continuerà ad avere per qualche secondo del danno e non è poco E il secondo è che il mostro si illuminerà di luce propria, illuminando tutto l'ambiente circostante Ed è una cosa ottima soprattutto per i bassi fondi, quando scendete molto Poi mi sono fatto lo Steel Hunting Bow Quindi l'arco di Steel cosa qua Steel che è acciaio, credo E niente, poi sto per fare adesso la Decoy Princess Per fare la Decoy Princess ci vogliono 100 Wood Planks 2000 Pixel 20 Fabric E 50 Titanium Bar Titanium Bar La Fabric si fa creando uno di questi, uno dei primi strumenti che potete fare Che io non avevo mai fatto E, vedete, potete fare le cose in pelle Sono cose di bassissimo livello Oddio, basso livello Questo per esempio è ottimo per le cose Questa, vedete, protegge moltissimo dal freddo Comunque sia Dove sta? Fabric si fa così e si fa attraverso tre fibre di pianta Insomma, che si trovano dappertutto Quindi, che cosa succede adesso? Che noi abbiamo questa Questa, questa Dove cazzo? Questa Decoy Princess E Niente, questa Decoy Princess Cosa ci permette di fare? Di evocare il Boss Tire 3 Che è un drago Fatto di ossa Che si fa? Che si fa? Che si fa? Che si fa? Allora, togliamo la torcia Che non ci serve Io non so se mettere la vibro Il problema è questo ragazzi Allora, intanto mettiamo le bombe Io ho messo bombe Molotov E Chi più ne ha Più ne metta Il problema è che ho visto Una persona che affrontava questo drago Ma lo faceva Con la Tech Quella lì Del doppio salto Che è molto comoda Anche la Dash Qui sarebbe molto comoda L'avete vista in uno dei primi video Quella che mi permette Di fare uno scatto Diciamo Il problema è che io non ho nessuno Ne questi Ho Questo coso qui Ho Il mio bel fucilone da cecchino Che però è di livello molto basso Molto molto basso E Perché non ho trovato ancora La nave che vende armi O comunque chi vende armi E niente Qualche medical kit Vabbè Insomma Voi già sapete quello che sto per fare Sto per evocare Solo per voi Il Boss Per vedere se riusciamo a farcelo Per farvelo vedere Ovviamente Ovviamente Perderò Non credo che Bustina di te Bustina di te Non credo che riuscirò a farle Granché Sinceramente Io Devo fare una prova però E cioè Mettere questa qui E questa qui Giusto Così con la Z Posso Vedete Questo spara molto più veloce Picchia molto più veloce Questo è molto più lento Posso provare a vedere Di Di switchare arma A vedere se riesco a fare qualcosa Non lo so Non so neanche io Sinceramente Ah però se metto questa Poi la Z Non funziona più Come cazzo faccio Ah ok Secondo me Mi incarterò Completamente Comunque ragazzi Il problema però Sapete qual è È affrontarlo qui In mezzo a Tutte queste Creature E cose del genere E questa non è per niente Una buona idea Il problema è che Non so minimamente Dove Dove farlo Questo lavoro Però forse Questo non è Il posto ideale Vediamo se Intanto Ah non vi ho detto Che siamo nel Vi faccio vedere Ma non ho Vabbè Buttiamo il carbone qua Mettiamoci la metà Siamo nel Nel settore Gamma Perché il Titanium È solo nel Settore Gamma Quindi Attenzione Attenzione Deserto Jungle Andiamo sul Deserto Ma Spostiamoci di pianeta Solo per evocare Il drago Bastardo Perché ho paura Che Il Diciamo Il pianeta Sul quale Ero Mi trovavo Cioè ci sono Comunque troppe Il terreno È troppo impervio Quindi ragazzi Stiamo andando Adesso Ad evocare Il drago Io credo Di non avere Assolutamente Le armi Sufficienti Per fare Questo lavoro Però Come si dice Prima si prova Io ricordo Che già sparando Al boss Del tier 2 Non gli facevo Praticamente un cazzo Quindi Non so come Affrontare un drago Che vola Immagino Con Un'ascia Ma Vabbè Tant'è Che Comunque Io qui dovrei avere Anche Intanto la mettiamo 19 10 Dovrei avere Un'arma Che spara Che Potrebbe Tornare Utile Ok Ragazzi Io sto per andare Questo è un pianeta Nuovo Per me Non l'avevo Non l'avevo Ancora visitato Quindi non so Neanche Se è abbastanza Pia Minchia Questo è peggio Di quell'altro Ok Però è abbastanza Vediamo questi Che fanno Se fanno male Fanno male Fanno male Proviamo un attimo Questa lancia Se serve Ragazzi vedete Quest'arma è talmente Di livello basso Che non riesce Neanche Non riesce Neanche A buttare indietro Il mostro I mostri Comunque ragazzi Ci siamo La cosa ideale Sarebbe stata Un'altra Spostarci Di settore E andare Su un Posto Un pianeta Un po' più Di livello basso In modo da non essere Disturbati Da I mostri Del pianeta Comunque ragazzi Io sono pazzo Sto per farlo Vado Vai Oh mio dio Come cazzo Lo becco questo Se Se Ah lì c'è del fuoco Che rimane Quindi Immagino che Vabbè io così Non gli sto facendo Oddio E non gli faccio Un cazzo Ragazzi Che cazzo No ragazzi Mi ha bruciato No mi toglie Mezza energia Solo quando mi brucia Adesso sono Sotto effetto Del Ragazzi Non è per me Non è per me Fermi tutti Non posso andarmene Sì me ne sono andato No 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 Non ho assolutamente Le armi Per affrontare Questo drago Adesso io mi curo Provo Anche con l'arco Ma non Non ho assolutamente Le armi per affrontarlo Fail 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 Puriamoci Ok Proviamo a vedere Se c'è ancora Se c'è ancora No è scomparso È scomparso Vero non c'è più Ed è scomparsa Anche la vergine La virginella Ok Abbiamo buttato Una Dei come princess Praticamente Ah sì Perché l'avevo messa qui E non c'è più Vediamo queste cose Cosa ci danno No Ok ragazzi Allora Devo vedere un attimino Come affrontare Questo drago Perché purtroppo Non ho le armi adatte Però vi assicuro Che nel prossimo video Lo sconfiggeremo Grazie.